Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Si comunica che in A12 lo svincolo di Colle Salvetti è attualmente chiuso in entrata in direzione Genova e in uscita provenendo da Rosignano. Per quanto riguarda i lavori notturni in A1 per lavori di pavimentazione, nelle tre notti di lunedì 18, martedì 19 e mercoledì 20 dicembre in orario 22.06 saranno completamente chiusi gli svincoli di Monte San Savino e di chiusi Chianciano Terme in entrata e in uscita in entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!